Guardate che bello in scivolata d'ala, ora in suona d'ala, vediamo che il rumo si stacca dalla piscina, è davvero un'opera molto lì, senti per se stessa. E registriamo magari il rombo, eccoli qua. Emozione, emozione unica. Un applauso, un applauso spontaneo. Prepariamo sempre le macchine fotografiche, e facciamo anche un saluto ai piloti, forza con le mani, via. Salutiamoli tutti, salutiamoli. Eccoli qua, guardate che bello. Bellificiamo il più possibile. Vedete che sono interessanti da qui. Ecco, altro passaggio, un po' l'olento. C'è che c'entra, quello qui è stato, eh? Questa è girata, 90 gradi. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Grazie a tutti. Dobbiamo ringraziare l'organizzazione delle persone di Andrea Rosetto piuttosto che di Padre e di Sapiele. Grazie a tutti. Intanto il signor sindaco di Montmugnana... Grazie signor sindaco, ho sentito un applauso. Grazie a tutti.